Una sconfitta che fa male per il Castelnuovo, molto male. Fa ripuntati su Nardini nell'anticipo della terza giornata del campionato di eccellenza. Avversario tosto, forse il più difficile per i gialloblu, opposti al forte grosseto di Mister Miano che ve legge in testa la classifica a punteggio pieno. Compito arduo per Cecchini e compagni al cospetto della favorita numero uno per la promozione in Serie D. Contadini recupera Picchi che uscirà però alla mezz'ora e si affida al cuore alla grinta dei suoi. In effetti il Castelnuovo gioca un ottimo primo tempo, alla pari dei blasonati avversari. I Garfagnini ribattono colpo su colpo ai biancorossi maremmani e ci sono occasioni da ambo le parti. Nella ripresa Nardini si infiamma per la rete di Bosi, classe 2000, Gori si orara a doppio ma nel finale, dopo che la squadra di Contadini è rimasta in dieci per espulsione di Cecciarini, il grosseto ribalta il match con i gol di Andreotti e Molinari in pieno recupero. Vincono i maremmani ma il Castelnuovo esce a testa alta e con non pochi rimpianti. Il tutto nel contesto di una giornata che ha visto capitolare anche Camaiore e Vorno, entrambe sconfitte per 2-0. Avvio di campionato difficilissimo per il Blu Amaranto che si ritrovano da soli a zero punti sul fondo della classifica. Domenica prossima si giocherà la quarta di andata che prevede la difficile trasferta del Castelnuovo al Corsini di Fucecchio, mentre Camaiore e Vorno saranno a confronto diretto nel primo derby stagionale.